volete provare una cosa in particolare voi, con me? mi trovo lì più di pasta ah no, no, non so chiaro non so, non so, non so che anche a me non so, non so, non so non so, non so, non so non so, non so non so non so non so non so non so non so